Un primato negativo per l'Italia, quello delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Basti pensare che in Europa ogni anno si verificano più di 670.000 infezioni di questo genere che causano oltre 35.000 decessi. Ebbene, un terzo di questi, cioè circa 12.000, si verifica in Italia. A dirlo la consueta classifica dell'antibiotico resistenza nell'Unione Europea, secondo l'ultimo rapporto di sorveglianza del fenomeno pubblicato oggi dal Centro Europeo per il contributo delle malattie in occasione della giornata europea per la lotta all'antibiotico resistenza. Una tendenza questa che, se non verrà interrotta, nel 2050 sarà la prima causa di morte in Italia, superando le malattie cardiovascolari e i tumori. L'antibiotico resistenza ha inoltre un impatto enorme sul servizio sanitario. Almeno 2.700.000 di posti letto sono occupati proprio a causa di queste infezioni, con un costo che arriva a 2.400.000 euro all'anno.